Oggi vediamo come creare l'offerta per il tuo hotel. Ciao a tutti, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Alessia Boccanfuso, social media manager specializzata per il settore turistico e oggi vedremo insieme come creare un'offerta per il tuo hotel. Quindi come costruirla, come pubblicizzarla, quando pubblicizzarla e se c'è qualche modifica, qualche attenzione particolare, qualche accortezza da avere in questo periodo di pandemia. Ora, solitamente quando noi andiamo a creare un'offerta per il nostro hotel, che cosa pensiamo? Pensiamo a quante camere abbiamo a disposizione, solitamente ce lo ricordiamo all'ultimo minuto, che tipologia e quanto sconto applicare. Niente di più sbagliato. Ormai le offerte di camera superior, 25 metri quadri, con frigo bar incluso, non vanno più bene. Ma dobbiamo avere diverse accortezze. Per attirare i nostri ospiti, il turista è cambiato, si è evoluto, quindi l'offerta va creata pensando proprio a loro. Ed è qui che voglio partire, perché noi dobbiamo conoscere con chi stiamo parlando. Quindi dobbiamo conoscere il nostro target. Non pensiamo che noi parliamo a tutti, perché non è così. Chi mi segue lo sa già, lo ripeto in continuazione. Se parli a tutti, non parli a nessuno. Devi avere un target. Non vai a escludere tutti gli altri, però devi sapere se stai parlando con magari i baby boomers, con i millennials, se stai parlando, non lo so, con genitori con figli, coppie senza figli, se hanno figli che fascia di età. Ecco, ci sono davvero tanti aspetti da tenere in considerazione, perché a quel punto, se sai con chi stai parlando, sai quale registro comunicativo devi utilizzare e a cosa devi puntare per far leva e attirare la loro attenzione sulla tua offerta. Quindi mi raccomando davvero non aver paura di escludere altri tipi di pubblici. Perché, ad esempio, mettiamo che per davvero è lunedì e ti rendi conto che per quel weekend hai un buco nel tuo hotel. Magari hai 10 camere a disposizione. È ovvio che tu non stai parlando con tutti, magari anche con la tua clientela straniera. Ovvio che, se ti sei ricordato tardi, devi puntare a una clientela locale che nel raggio di tot chilometri può prendere la macchina, può prendere un treno, eccetera, eccetera, che viene da te, si fa il weekend e poi torna via e magari lunedì torna a lavorare tranquillamente. Quindi magari un weekend con l'obiettivo relax. Ecco, in questo caso noi sappiamo a chi stiamo parlando e quindi magari nella nostra offerta ci possiamo rendere conto anche dei servizi per i quali i nostri clienti hanno necessità. Ad esempio, se sappiamo che un tipo di clientela che viaggia in auto ha necessità del parcheggio, non dobbiamo dare per scontato determinate cose. Abbiamo il parcheggio a disposizione, scriviamolo. Puntiamo alle famiglie con bambini piccoli. Dobbiamo dire che abbiamo la culla, perché credetemi, io diverse volte, anche da cliente, per sapere determinate informazioni, quindi se magari un hotel aveva a disposizione la culla e se questa era a pagamento o meno, eccetera. Sono dovuta andare a finire su booking.com perché nella sezione delle informazioni queste cose ci sono. Però sui siti degli hotel no. O comunque nell'offerta su Facebook queste cose non le trovi. vi sembra normale una cosa del genere? Assolutamente no. Queste informazioni le dobbiamo dare noi. Non dobbiamo permettere che i clienti vadano a cercare la nostra offerta da un'altra parte. Quindi più diamo informazioni, più li invitiamo a restare, così dove noi abbiamo catturato loro l'attenzione. Quindi siamo riusciti a portarli sul nostro sito, non devono uscire da lì. e dobbiamo portarli a concludere la prenotazione. Una cosa molto importante per la creazione della nostra offerta è conoscere quelli che sono i nostri obiettivi. Ovviamente l'obiettivo principale è quello di vendere le camere, ma ce ne sono anche altri. Magari questo mese ci siamo resi conto che c'è un calo delle vendite del minibar. Quindi che cosa facciamo? Magari possiamo creare un'offerta dove ci sia il minibar incluso. Questo non significa che voi dobbiate regalare e questo tipo di cose come il minibar oppure non so l'aperitivo perché avete notato un calo nel consumo degli alcolici. Ok? Io non vi sto parlando di offerta, quindi uguale super sconto. L'offerta, un pacchetto, può essere semplicemente utile per mettere in risalto la vostra struttura. Ok? E poi se volete potete offrire magari un qualcosa in più, ma questo lo vediamo un po' più avanti. Quindi quali sono i nostri obiettivi? Vi ho fatto l'esempio del minibar, quello del consumo degli alcolici, ma può essere quello di far conoscere anche il vostro ristorante perché magari avete un ristorante interno dove hanno l'accesso anche le persone esterne e vi piacerebbe farlo conoscere. Quindi andate a prendere una clientela locale che poi anche nei weekend farebbe quei chilometri in più pur di venire a mangiare da voi perché l'ha provato e si trova bene. E lo sappiamo che poi di lì lavoriamo con il passaparola. Quindi per raggiungere i nostri obiettivi, come creiamo effettivamente questa offerta? Bene, noi dobbiamo lavorare con le parole, quindi il copy, e dobbiamo lavorare con le immagini. Bene, io voglio partire dalle immagini. Basta queste foto di camere sterili, quindi sta foto a letto, e magari ci mettete pure il cigno fatto con gli asciugamani. Io odio quel cigno fatto con gli asciugamani. Basta fare questo tipo di foto. Cerchiamo di dare un senso. Come investiamo in una modella? Ok? Non dovete pagare milioni di euro per una modella. Ci sono tante persone che per uno shooting non si prendono migliaia di euro per farlo, ma una modella, una coppia, rendono più l'idea magari del relax. Vi faccio sempre l'esempio della ragazza. in accappatoio, che sta distesa sul letto, che sta leggendo la sua rivista preferita, magari con accanto il vassoio del servizio in camera, con la spruta d'arancia, e magari il kiwi nel piatto. Perché vi sto facendo questi esempi? Perché sono colorati, il verde, l'arancione, e quindi danno il tocco di colore alla vostra foto. perché magari la vostra camera ha dei colori un po' spenti. Ok? A differenza della foto, con stessa inquadratura, del letto è bassa, sì, che mi fa vedere la camera, la foto con la modella mi fa sempre vedere la camera, bellissima, ok, però io riesco a immedesimarmi in quella persona. E dico, anch'io voglio rilassarmi così, anch'io ho bisogno di staccare, ok, anch'io voglio stare sul letto, a leggere il giornale, mentre faccio la colazione, poi nulla mi vieta di andare a visitare i posti, eccetera, eccetera, ma io devo aver voglia di venire in quell'hotel perché poi manterrà una promessa, ovvero io in quell'hotel mi posso rilassare, che se poi io decido di non stare in hotel, poi è problema mio. Io perché faccio questo esempio? Perché a volte sembra che tutto ciò se lo possano permettere solo coloro che hanno la jacuzzi in camera, ma non è così, soprattutto perché sappiamo che non tutti ci hanno la jacuzzi, in quanti hanno la doccia in camera per questioni di spazio, delle dimensioni del bagno. Ebbene, anche con la doccia in camera, anche se non hai la jacuzzi, tu ti puoi permettere di regalare il relax ai tuoi ospiti. Ma veniamo alle parole, come ho già detto prima, la solita offerta, camera superior, 25 metri quadri, con frigo bar, non va più bene, magari aggiungiamo anche la frase vista mare, poi c'è un po' una strisciolina che si intravede giusto per il baglio. Va benissimo dire che la camera è superior, la vista mare va benissimo, ma non facciamo più queste offerte sterili, puntiamo all'esperienza. Adesso l'esperienza è alla base del turismo, in tutti i sensi, quindi dobbiamo puntare a quello. È un soggiorno di una notte, perché magari stiamo facendo un soggiorno total relax? Bene, puntiamo a questo aspetto, ovvero, se tu vieni ti rilassi, questo è incluso, poi potrai visitare la città, vivere un momento magico con la tua famiglia. Ecco, poi in base a quello che è il tuo target e a quello che è a disposizione, che io adesso sto facendo l'esempio dell'offerta del weekend, magari di una notte, ma questo discorso vale anche per soggiorni di 7-14 notti, ok? Sei tu che devi aiutare i tuoi clienti a capire cosa possono fare da te, perché a volte mi è stato detto in consulenza, no vabbè ma da me i clienti non soggiorno più di una o due notti. Ho capito, ma tu gli devi dire che cosa fare, ok? Col turismo esperienziale, con la possibilità di visitare i borghi e conoscere meglio la gente del posto, la popolazione, o comunque imparare a cucinare un determinato alimento, oppure conoscere i sapori, i piatti del posto. Ecco, le persone stanno cercando questo, stanno cercando autenticità, ma se non sei tu il primo a dirgli come fare queste cose e dove farle, lo farà il tuo concorrente e si assicurerà un soggiorno più lungo e credetemi, è dimostrato che il turismo esperienziale faccia soggiornare più a lungo gli ospiti in un determinato albergo, ma ti devi interessare, ok? Ti devi interessare a questo aspetto e devi essere tu il primo a esserne promotora. Un altro aspetto molto importante che può dare valore alla tua offerta è il fatto di aumentare il valore percepito di quello che stai proponendo, perché magari non lo dai gratis ma puoi includere nell'offerta la bottiglia di spumante o champagne che sia, poi dipende dal livello ovviamente del tuo hotel, che troveranno in camera al loro arrivo oppure due petali di rosa, ecco, ci sono determinati aspetti che aumentano il valore percepito della tua offerta e fanno tanto, ok? Quindi portano le persone a scegliere quel determinato servizio perché vedo ok, vedi, mi dà questo, mi dà quello, la cena inclusa, eccetera, eccetera, perfetto, il pacchetto parla proprio a me e vedo anche un aspetto che mi dà del valore in più rispetto al normale, rispetto alla camera che io compro su Booking e quindi io ho prenoto direttamente da te o te, va bene? Perfetto, ora come posso promuovere la mia offerta? Ovviamente sul nostro sito sarebbe proprio l'ideale, quindi magari usare anche i social in supporto che però rimandino le persone sul nostro sito, lì c'è l'offerta, c'è il prezzo, deve essere cliccabile e acquistabile sul momento. Non ci devono essere passaggi che ti devono chiamare, richiedi un preventivo, eccetera, eccetera, deve essere tutto e subito, non creiamo ostacoli alla nostra prenotazione perché è così che si comporta il nuovo utente. L'utente fa le ricerche da mobile quindi dovete avere un sito che sia mobile friendly e vuole il tutto e subito perché siti come Booking.com o Expedia vanno così bene perché danno tutte le informazioni e in pochi click si può prenotare. Poi nel momento in cui voi fate delle sponsorizzate sul vostro sito avete la possibilità poi di fare delle sponsorizzate di retargeting che hanno un ritorno sull'investimento davvero importante ovviamente se fatte bene se fatte con criterio dove andiamo a prendere tutte quelle persone che hanno già visto per la prima volta la nostra offerta e quindi le andiamo a ricordare andiamo a puntare a coloro che erano già interessati ma che non hanno proseguito con la prenotazione ma possiamo puntare anche ai nostri clienti noi abbiamo un database con le email ben profilate quindi non abbiamo delle email così mischiate dove mi trovo il tedesco il francese è il catanese no io so che sto puntando magari divisi anche per fasce d'età quindi se la mia offerta è per dopodomani oppure magari è un'offerta che è per un soggiorno fra un mese ma mi rendo conto che in quelle date il francese per venire da me deve spendere 400 euro a persona di aereo vi rendete conto che è inutile puntare a loro quindi è inutile mandare email su email quando io leggo l'offerta e so già che non le posso usufruire evitiamo di disiscrivere gli utenti e invitiamoli a leggere l'email come lo facciamo? lo facciamo inviando loro delle cose che siano pensate per i loro soggiorni quindi io ho anche più piacere a visionare perché così so che la apro e stai parlando con me trovo qualcosa adatto a me quindi magari punto a coloro che sono nei miei dintorni vedo poi scegliete voi un determinato tipo di chilometraggio magari pure anche 100 km le persone lo fanno volentieri però ecco inutile magari voi siete in Sicilia o proporre a Milano sempre perché c'è questo problema dell'aereo se invece ci sono in quel periodo degli sconti il volo a 9 euro magari anche lì ci possono fare un pensierino di un weekend ad esempio in Sicilia ok quindi vediamo a chi proporlo però nel momento in cui noi facciamo una campagna di email marketing fatta bene calcolate che abbiamo a disposizione oro perché noi quell'email l'abbiamo già ottenuta non dobbiamo spenderci soldi per fare una campagna di email marketing ok quello è stato già un nostro cliente il costo per mantenere un cliente è nettamente inferiore rispetto a quello per trovarne uno nuovo quindi mi raccomando coccoliamo che è stato già da noi non interrompiamo la connessione ok il cliente è partito ciao ci si rivede l'estate prossima no cerchiamo di mantenere i contatti con il cliente e facciamo in modo che ritorni ma dobbiamo sapere con chi stiamo parlando quindi nel momento in cui il cliente arriva in struttura dobbiamo creare delle schede dobbiamo avere un nostro database così sappiamo poi come ricontattarli per quanto riguarda i social non vi ricordate giorno prima per il giorno dopo perché non è tutto dobbiamo sperare che le persone che hanno interesse non siano connesse se vogliamo fare una sponsorizzata calcolate che le persone anzi facebook deve avere il tempo di individuare il target e poi puntare a loro non è che voi fate una sponsorizzata adesso e dopo 5 minuti tutte le persone l'hanno vista ok quindi diamo anche un po' di tempo a facebook o comunque come andrete a gestire le vostre sponsorizzate e poi ricordiamoci sempre che l'offerta va vista meno 7-8 volte prima di essere recepita prima che una persona prenda una decisione ok quindi non facciamo l'errore di offerta bene oggi mi prenotano tutti no le persone ci devo pensare quindi se riusciamo a corteggiarli a me piace molto questa parola corteggiare il cliente creando un'offerta pensata per loro ecco quella è la soluzione ideale mi raccomando nel momento in cui andate a creare delle offerte online alla call to action ok molto importante non mettete per informazioni chiedi un preventivo metti un chiama ora prenota ora queste sono call to action molto più efficaci ok ma un'altra un altro suggerimento che io vorrei dare nel momento in cui voi andate a creare un'offerta è di sfruttare la tecnica di copywriting di scarsità e urgenza ok se non avete tantissime camere scrivetelo solo 5 a disposizione solo 4 camere a disposizione oppure urgenza questa offerta scade fra due giorni ok non è un caso che amazon booking xpedia vadano a utilizzare questo tipo di tecniche perché sono tecniche già collaudate che funzionano ok quindi perché non le dovresti utilizzare tu e non mi rispondete eh ma io ho solo 12 camere io ho solo 25 camere non ti esime da utilizzare tecniche di marketing in marketing serve amazon serve a booking ma serve anche a te senza il marketing non vai da nessuna parte la gente non sta aspettando te non sta aspettando il tuo hotel e soprattutto non puoi guadagnare solamente in piena estate ok se hai un hotel stagionale va bene ma sappiamo benissimo che le hotel stagionali aprono anche un po' prima nel periodo primaverile non puoi avere un calo in primavera solamente perché non ti importa di investire nel marketing di impegnarti ok tu se stai aperto devi guadagnare tutti i giorni perché non esiste ecco a me fa innervosire questa cosa quando vedo tanta potenzialità e poi si ignora ok no e perché la va così no non va così se tu non fai niente la gente non verrà da te va dal tuo concorrente da quello che si stai impegnando per farsi conoscere ma ora che c'è il coronavirus che cosa dobbiamo fare c'è qualche aspetto da tenere in considerazione ovviamente sì allora una cosa da tenere in considerazione sono le politiche di cancellazione soprattutto se mi fate un'offerta da qui a sette mesi perché primo di PCM mi fa perdere tutti i soldi abbiamo visto che cosa è successo nel 2020 la gente ha paura ok perché magari sì fate un coupon però ragazzi non tutti ottengono le ferie facilmente a volte lavorano marito e moglie e a volte succede che per ottenere entrambi le ferie ci deve essere una congiunzione astrale credetemi io l'ho provata questa cosa e quindi magari l'ho ottenuta quella volta ma non sai quando riuscirai a ottenerla di nuovo ecco le persone in questo momento hanno paura di perdere i loro soldi ok quindi dobbiamo trovare la flessibilità decidete voi come quanta flessibilità volete dare però dovete tenere in considerazione questo se fate delle non rimborsabili non restituiti soldi le persone non verranno adesso a prenotare da voi almeno finché questa soluzione non si sarà risolta e un'altra cosa al quale dovete fare attenzione è la sicurezza non date per scontato che le persone sappiano che voi rispettate tutte le norme di sicurezza ok ma dovete dirlelo soprattutto se lo fate per davvero perché in quanti sto venendo sì noi sicuri di qua noi sicuri di là ma poi alla fine le misure di sicurezza non le fanno rispettare nemmeno per sbaglio invece voi vi impegnate e dite come tutelate la salute dei vostri clienti perché se io ho paura di un contagio però magari voglio staccare perché ne ho bisogno oppure devo semplicemente viaggiare per lavoro e comunque ho notato la tua offerta a quel punto penso a ok in questa struttura io starò al sicuro perché adottano determinate misure di sicurezza perché io vi ho fatto magari l'esempio prima di un soggiorno relax ok però non dimentichiamo la clientela blazer quindi io viaggio per lavoro mi porto dietro la mia compagna la mia fidanzata o moglie che sia e quindi approfitto aggiungo un altro giorno e magari approfittiamo del pacchetto relax e quindi facciamo la cena eccetera mi ritaglio delle ore per il lavoro poi ho concluso e quindi magari faccio anche un tour dei dintorni quindi come potete vedere creare un'offerta non è così complicato ma ci dobbiamo impegnare come lo facciamo conosciamo con chi stiamo parlando e da lì sarà molto più semplice partire io come sempre spero che questo video vi sia stato utile iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto così da non perdere i miei contenuti se poi volete fare una consulenza con me vi invito a visitare il sito www.alessiaboccanfuso.com dove in pochi click potete confermare il vostro appuntamento besos